Valorizzazione turistica legata alla ricettività e alla promozione del territorio e valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Si muoverà lungo queste due direttrici la strategia di sviluppo dei comuni del cratere sismico che questa mattina si sono ritrovati a Santo Stefano di Sessanio per parlare di sviluppo e ripresa post-sisma. Con i comuni del cratere sismico rappresentati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione c'erano il sottosegretario con delega alla ricostruzione Paola De Micheli, il Presidente del Censis Giuseppe De Rita, il Vice Presidente della Giunta regionale Giovanni Lolli e Bernardo Mattarella di Invitalia. Proprio il rappresentante di Invitalia ha annunciato che nei prossimi mesi partiranno i bandi pubblici per un ammontare di risorse di 12 milioni di euro che saranno diretti al turismo e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari dei comuni del cratere. La scelta delle linee di indirizzo e frutto hanno spiegato i rappresentanti del Censis che hanno guidato tutto il processo di confronto sul territorio dei tavoli di ascolto attivati su tutti i 56 comuni del cratere. L'ascolto ha evidenziato una confortante disponibilità dei comuni ad essere parte attiva dello sviluppo del territorio ma anche un senso di frustrazione per la disattenzione che c'è verso questi stessi territori. I due ambiti di sviluppo indicati dal Censis e da Invitalia rientrano nella seconda tranche di interventi previsti con i fondi barca per la ricostruzione. Il primo asset valorizzazione turistica verrà finanziato per 9 milioni di euro mentre quello sulla valorizzazione agroalimentare per 3 milioni con bandi specifici.